La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l'ultimo parere di AIFA sarà possibile farla cinque mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti. Con questo tweet postato ieri sera sui social, il ministro della salute, Roberto Speranza, annunciava l'anticipazione di un mese della terza dose di vaccino anti-covid. Dunque, a partire da domani, mercoledì 24 novembre, sarà possibile rafforzare la propria dote anticorpale ricevendo la dose booster a cinque mesi dalla somministrazione della seconda inoculazione e non più a sei, come inizialmente stabilito. Perché la quarta ondata fa paura e anche questo servirà a scongiurare che ci raggiunga lo spettro degli scenari dei paesi del nord Europa, alcuni già in lockdown, dove il covid corre più veloce, soprattutto in assenza di coperture percentuali adeguate tra la popolazione vaccinata. Il quadro sanitario in Abruzzo resta ancora da zona bianca, con il 4% dei posti letto occupati in terapia intensiva rispetto alla soglia di rischio fissata al 10% e il 7% degli ospedalizzati contro il 15% stabilito dai parametri del Comitato Tecnico Scientifico per il Cambio di Colore. Raddoppiata invece l'incidenza settimanale dei casi su 100.000 abitanti che si attestano a 101,86 nella settimana appena conclusa rispetto ai 50 individuati dal CTS. E mentre la discussione si accende sulla possibilità di attuare chiusure mirate per i non vaccinati, cercando di far virare la rotta sul senso di responsabilità sociale di ciascuno, le ASL pensano a come riorganizzare la campagna vaccinale in vista dell'incremento di richieste dopo l'anticipazione delle terze dosi, come spiegato dal dottor Rossano Di Luzio, referente della campagna vaccinale dell'ASL di Pescara. La platea dei vaccinabili alla terza dose raddoppia. Abbiamo programmato un aumento delle linee vaccinali negli hub, abbiamo aumentato di una giornata l'apertura a scafa e a penne a partire dalla prossima settimana, quindi stiamo rispondendo con le forze disponibili ad un aumento della richiesta di vaccinazioni. A fronte di tutto ciò ci sono sicuramente i centri vaccinali che nell'ASL di Pescara continuano a funzionare, ma c'è anche diciamo la vaccinazione di prossimità, se così vogliamo definirla. Sì, abbiamo circa 100 farmacie nella provincia di Pescara che effettuano le vaccinazioni e poi abbiamo i medici di famiglia, è importante la loro partecipazione per poter mettere in sicurezza tutta la popolazione nel più breve tempo possibile. Il sindaco Carlo Masci ha detto che si sta pensando anche a cercare una sede in più, insomma, per mettere in piedi un nuovo centro vaccinale. Si stanno valutando altre sedi, ma il problema non è solo della sede, ma il problema è anche il personale. Aver ridotto di un mese il tempo di attesa per la terza dose significa aver ampliato la platea vaccinale di almeno 60-70 mila persone che possono dall'oggi al domani prenotarsi e quindi siamo costretti a correre dietro a questo carro che a volte è anche più veloce di noi. Si pensa al lockdown specifici per i non vaccinati, sarebbe davvero opportuno ritornare a delle chiusure anche solo mirate per i non vaccinati? Ma questa è una decisione che deve essere presa a livello ministeriale, a livello del Comitato Tecnico Scientifico nazionale. Noi dal canto nostro ci stiamo impegnando per aumentare la vaccinazione il più possibile, stiamo collaborando anche con le amministrazioni locali dei comuni dell'entroterra per fare degli open day per le terze dosi. Qual è la percentuale delle persone che occupano le terapie intensive? A Pescara ad oggi ci sono 5 persone ricoverate in rianimazione e altre 16 ricoverate nei reparti Covid non intensivi. Di queste 5 persone oltre il 75%, quindi 4 persone su 5 sono non vaccinati. Ricordiamoci che un ricoverato in rianimazione costa alla popolazione circa 2.000 euro al giorno e questi sono soldi sottratti ad altre patologie, parlo di pazienti oncologici ad esempio, quindi tutto ciò che stiamo portando verso il Covid perché le persone non vogliono vaccinarsi sono risorse che sottraiamo ad altri pazienti che ne hanno anche bisogno. Intanto salgono a 74 i dipendenti della Asla di Pescara sospesi perché non vaccinati. Di questi due sono medici e i restanti infermieri e ausiliari. A riferirlo è stato vero Michitelli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria pescarese, a margine della consegna di tre ventilatori polmonari neonatali donati da Confindustria di Chieti Pescara alla terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santo Spirito. Come è noto la vaccinazione obbligatoria è imposta per legge, non è una scelta discrezione dell'azienda. Noi abbiamo dovuto applicare la normativa, c'è una commissione che valuta questi casi. Purtroppo vengono sospesi senza retribuzione ma conservano ovviamente il posto di lavoro che nessuno può togliere. Questa procedura che ha coinvolto complessivamente in una prima battuta 25 unità e in una seconda fase 49 non comporta un detrimento nell'assistenza sanitaria perché comunque noi abbiamo tutti gli strumenti per reagire a questo. Abbiamo graduatori a tempo determinato vigenti, abbiamo un sistema di fornitura di lavoro temporaneo che ci consente di adottare reclutamenti anche nell'arco delle 24 ore. Quindi nessuna diminuzione, nessun rischio di contenere la capacità assistenziale dell'azienda.